Il 35% di chi chiede aiuto è italiano sposato in affitto con figli minori tra i 40 e 49 anni, disoccupato o inoccupato. Questo l'identikit che emerge da Turbati, il nuovo rapporto sulle povertà nel retino realizzato dalla Caritas diocesana. In occasione della giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco e alla sua quarta edizione, l'osservatorio infatti ha voluto diffondere quanto rilevato e analizzato nel corso del 2019. Sono state dunque 2007 le famiglie o persone registrate nei servizi e nei centri della Caritas diocesana e di quelle parrocchiali, con il 35,3% di italiani che rimane abbondantemente la nazionalità più presente. Il rapporto conferma poi come la famiglia sia la principale condizione di convivenza registrata, con il 63,5% delle presenze e come indirettamente siano stati aiutati ben 1.415 figli minori. Le problematiche rilevate nel corso del 2019 sono state 1.055, con una media di 1,9% per ogni registrazione. Il problema principale resta quello economico, amplificato dalla mancanza di lavoro, la fascia critica, quella che va dai 30 ai 49 anni, che da sola raccoglie quasi il 50% delle persone in difficoltà. Parallelamente all'analisi di quanto emerso nel 2019, ci siamo trovati quest'anno ad affrontare un incremento esponenziale di richieste d'aiuto dovute alla pandemia, spiega il direttore della Caritas diocesana, Don Giuliano Francioli. Oltre all'emergenza sanitaria, ci preoccupa fortemente l'emergenza sociale, della quale forse ancora non se ne percepisce bene la portata. Negli ultimi mesi abbiamo registrato segnali preoccupanti prevalentemente per la famiglia, i minorenni e le persone di giovane età, la disabilità e le persone svantaggiate a rischio di esclusione sociale. Verso queste realtà, conclude, la Caritas diocesana sta pensando di mettere in piedi per il 2021 dei progetti specifici.